40 posti letto in più in arrivo al Morelli di Sonda, l'ospedale Covid-19. Serviranno ai pazienti dimessi ma ancora in quarantena che a casa non potrebbero contare su un'adeguata assistenza. I 40 posti andranno a breve ad aggiungersi ai 200 per chi necessita di cure più o meno intensive ospitati nei padiglioni primo e quarto. I due piani del padiglione sesto sono già stati allestiti, manca soltanto il personale che l'azienda sta reclutando in questi giorni. E proprio in tema di personale sconcerta la decisione odierna della direzione strategica ASST relativa alla riduzione dei lavoratori in servizio delle strutture di degenza ospedaliere non di Sondrio, Morbegno e Chiavenna, fino all'organico essenziale a garantire adeguata assistenza a chi rimane ricoverato in questi ospedali ormai pressoché svuotati. Una mossa parrebbe finalizzata soprattutto a destinare i dispositivi di protezione che scarseggiano ai soli operatori impegnati a curare e assistere i pazienti così da aumentare il loro livello di protezione. È tanto vero che a un certo momento c'è assolutamente bisogno che gli operatori sanitari che fino adesso non hanno avuto carichi di lavoro così pesanti vadano a sostituire o a dare una mano o a rinforzare o a rinforzare o a sostituire insieme il personale di Sondrio. Tanto per essere molto chiaro. Perché quelli stanno combattendo veramente tanto. Anche Sondrio perché anche Sondrio mi sa. In una nota molto critica inviata da Gerlando Marchica e Giampiero Durini dell'FSI-CSA ai direttori generali di ASST e ATS, al presidente della provincia e al presidente della conferenza dei sindaci, i sindacalisti chiedono se non fosse il caso di pensare a tutelare anche gli operatori del presidio ospedaliero di Sonda, lo dicono, almeno fino ad un certo periodo necessario per riprendere le dovute capacità fisiche e mentali ad oggi sottoposte a dura prova. È una scelta assolutamente non condivisibile e strategicamente inopportuna e inqualificabile. Pare che per dare rinforzi a Sondrio si stiano stilando graduatorie di mobilità, aggiunge Marchica, ma quando c'è un'urgenza non ci sono graduatorie che tengano. Va mandato il personale e subito. Nella loro messiva i sindacalisti ricordano anche la realtà di diversi operatori sanitari esposti, risultati positivi e alcuni tuttora ricoverati, per sottolineare l'esigenza inderogabile di sottoporre tutti gli operatori delle strutture ospedaliere, territoriali e delle case di riposo a controllo periodico del tampone. Intanto a Sondrio nella giornata di ieri si sono registrati sei decessi, cinque uomini e una donna e nove dimissioni, tutti uomini, a fronte di 19 nuovi ricoveri, mentre i tamponi in corso di analisi sono una novantina e sono sempre tante le persone che ogni giorno si presentano al pronto soccorso. Intanto è di questo pomeriggio la notizia che da questa sera un'intera squadra di vigili del fuoco effettivi di mese verrà messa in quarantena.